Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Corriere Turismo, oggi ci troviamo a Levico Terme. Levico Terme è una località turistica situata a 500 metri di altitudine in Balsugana, a circa 20 chilometri da Trento. Levico è rinomata soprattutto per le terme, che insieme a quella della vicina vetriolo, sono note a livello internazionale per le acque arsenicali ferruginose uniche nel mondo e per le loro qualità terapeutiche e rigenerative. La città di stampo antico è un luogo che rievoca atmosfere ottocentesche, in cui i nobili da tutta Europa venivano a soggiornare nel periodo estivo. Insieme di antico e moderno ne fanno un centro ideale per proposte attrattive, differenti e molto variegate. Molteplici sono gli eventi che si ripetono annualmente nella stagione estiva, ma anche in quella invernale. E' un luogo che è strato! Levico propone salute, benessere termale, climatico, sport e divertimento all'aria aperta. Mountain bike, escursione a piedi o a cavallo, nuoto, canottaggio, calcio e tennis sono gli sport più praticati. Il lago di Levico ha ottenuto riconoscimento bandiera blu d'Europa grazie alla qualità delle acque di balneazione e ai servizi proposti negli stabilimenti. Non vi resta che prenotare la vostra vacanza all'elicottero, vi diamo alcuni consigli su dove soggiornare. Grazie. 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 Grazie.